Buonasera, buonasera a tutti. Vi anticipo che sono molto emozionata, per cui io devo imparare una parte a memoria, ve lo dico sinceramente. Proverò ad esprimere quello che sta in questo momento. Se gentilmente Celeste mi aiuta dando la scaletta. Sono emozionata e non ricorderai nulla. Vi presento il mio nome è Anna. Sono una mamma, sono una moglie, sono orgogliosissima dei miei figli. La mia piccola Sara che ha appena sfilato e lui il mio primo genico. Io volevo raccontarmi un po' di me. Ho operato in diversi settori, ma il primo momento che ho avuto l'approccio per la moda è stata con mia madre. Lei si diventava...